Buongiorno a tutti, sono Tullio Miscoria e io Vincenzo Patti, trainer del corso Condurre video incontri commerciali, che propone linee guida e indicazioni pratiche in termini di approccio di metodo e di stile per essere efficaci come in presenza, sia in un contatto con un nuovo potenziale cliente, quanto nella gestione di trattative e progetti con imprese con le quali abbiamo una relazione più o meno consolidata. Sono molti gli aspetti sfidanti che dovremo saper affrontare efficacemente. Non dimentichiamo infatti che, primo, avremo meno tempo a disposizione per giungere al punto, ma non dovremo mai apparire frettolosi. Secondo, faremo più difficoltà a rilevare il feedback del nostro interlocutore. E poi terzo, dovremo saper mantenere alto il livello di coinvolgimento e di attenzione del nostro interlocutore che ci guarda dallo stesso schermo da cui riceve mail che potrebbe guardare proprio in quel preciso momento. È un tema quanto mai attuale, perché nell'attuale contesto ci è precluso, salvo rare eccezioni, l'incontro in presenza. Ma non per questo dobbiamo fermare o rallentare la nostra azione di sviluppo. L'incontro in video diventerà sempre di più un canale di comunicazione che dovremmo saper padroneggiare molto bene, perché sarà il cliente stesso a sceglierlo o perché saremo noi a proporlo laddove ci fosse la difficoltà ad ottenere la sua disponibilità nel breve per un incontro. O ancora, perché risulterà difficile trovare l'incrocio tra le agende di più persone provenienti da varie città italiane per un meeting presso l'azienda cliente. Nelle sessioni informative vedremo insieme come preparare bene l'incontro, assumere il controllo e l'indirizzo della trattativa o della presentazione con un cliente attivo potenziale, riuscire in un tempo limitato a risultare coinvolgenti e convincenti, curando molto bene i messaggi chiave per fare emergere in modo concreto e misurabile il valore e i benefici delle soluzioni da noi proposte. Rilevare l'apprezzamento e il feedback in modo sincero e concreto, concordando le azioni successive per non dover poi inseguire il cliente. Lavoreremo in un contesto formativo nell'ambito del quale alterneremo momenti di definizione e condivisione di linee guida ad altri di sperimentazione pratica, allenandoci con casi scuola basati sulle situazioni più ricorrenti e sfidanti che dovremo saper affrontare. Proprio per questo ogni sessione accoglierà fino ad un massimo di 10 partecipanti per consentire a tutti di prendere parte alle attività previste. L'incontro formativo fornirà molti spunti pratici e concreti per migliorarsi e rendere facile e veloce l'applicazione di quanto appreso. Vi aspettiamo quindi per un incontro che oltre ad arricchirci ci consentirà di confrontarci e di motivarci nei confronti dei clienti con energia ed efficacia. A presto!